ciao ciao amici benvenuti bentornati qui sul mio canale sono il carletto nel mio angolo delle recensioni anche quest'oggi in compagnia di me di raffa ciao a tutti i ragazzi ragazzi dobbiamo ringraziare la raffa che qua oggi ci ha portato un pezzo da 90 li devo raccontare da 100 da 100 allora questa qua è una cuma ragazzi che risate da noi si apre aspetta facciamo di vedere una cosa guardate qua box davanti e dietro pensate che botta di straculos un suo collega cos'è che dice vi dice raffa ciò questo prodotto che guardate che bello si apre anche al libro guardate qua lui è a kuma goutti questa qua e kids logic ed è licenziata capcom ho veramente un pezzo da 90 racconta cosa ti dice il tuo collega intanto che io la apro raffa semplicemente mi fa gioco servizio quasi interessa meno te la vende per 50 forse c'entrini e la data ragazze a 50 euro questa adesso tra i 50 e 100 forse adesso questa è la cosa una delle cose più rare che c'è ovviamente oltre poi ce lo dirà raffa le statue da qualche migliaio di euro ovviamente elevata quella secondo me come action figure qua siamo forse una delle più belle guardate lui l'apre non l'aveva mai aperta e cosa trova trova questo qua io li faccio raffa guarda che ti hai perso questo fa no ma io non ce l'ho al laser è roba tua è roba tua e facciamogli vedere poi dopo io per scherzare non glielo volevo non glielo voglio dare lui è tentato di farmi una ryuken sul braccio senza guardate vediamo se riusciamo a farlo vedere guardate che bello allora questo laser che cosa fa ragazzi guardate qua fa vedete il simbolo spegni la luce ma anche molto potente però lì non si riesce bene la luce guardate ragazzi che figata guardate il simbolo di akuma vedete dai so vai riaccendi raffa questo praticamente fa il simbolo di akuma ragazzi bellissimo laser anche questo kids logic vedete street fighter bellissimo veramente e lui non sapeva neanche all'interno dopo quando gira lo proiettiamo non sapeva neanche di questa allora la figure è composta da due cos'è due blister sono vero allora questo qua ragazzi e poi è uno sotto dai vediamo nel dettaglio come sempre tutto quello che c'è e gli andata di culo ragazzi 50 euro veramente spettacolare gli si illuminano anche gli occhi vedremo anche questa cosa cosa devono fare iscriversi al canale mi raccomando iscrivetevi orcocana voi non vi costa nulla per noi veramente importante ragazzi iscrivetevi ragazzi ragazzuoli sapete che io sono pazzo ma sono precisissimo guardate queste laser guardate il simbolo di akuma guardate che spettacolo questa era la pennetta era giusto farvi vedere bene anche il simbolo vedete guardate che spettacolo il simbolo di akuma dai riaccendiamo raffa siamo in trattativa perché io gli ho proposto 50 euro come ho detto allora tutti guardate qua questo qua libretto che troviamo con che ci va a spiegare anche come andarli inserire cosa raffa le batterie perché ragazzi questo illumina gli occhi guardate quanti punti di snodo durante il corpo guardate che bella la basetta con il logo di street fighter il nome del personaggio guardate che spettacolo i ragazzi da consigliare questa completamente nuova nuova una botta di culo ragazzi succedono poche volte guardiamo qua la doll guardate che spettacolo allora all'interno cosa troviamo diciamo di vedere bene i sandali magari queste le tiriamo fuori dalle mani vedete aperti pugni e poi dopo la dolce adesso la vediamo bene anche rosario e rosario rosario ora partiamo infatti ragazzi guardate qua questo è il rosario guardate che bello poi della metteremo sugli faremo un mega a per cat vi facciamo vedere anche un sandalo che magari questo poi su non lo mettiamo guardate come sono lavorati e fatti bene vi facciamo vedere magari anche una mano aperta con la su così questa qua ricordo è fatta da kid logic ha fatto veramente kids loggio un vero gioiellino guardatelo qua ragazzi allora andiamo a vedere bene 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 questo guardate qua questo acqua ma è devastante qua si va ad aprire ragazzi si illuminano gli occhi guardate qua vedete differenza meno è eccezionale ne voglio ammette la sua capigliatura come che era qua così scusate che noi non rifacciamo mai date gli occhi illuminati guardate qua qua kid logic ha lavorato in maniera mostruosa adesso quale pile sono un po scariche quindi voi non vedete benissimo guardate l'illuminazione sapete che io lo scult mi piace un sacco farvelo vedere guardate qua che gioiellino raffa che dici guardate qualche gioiellino sono andata a fare qua guardate la parte del petto guardate quanti snodi guardate che ci permettono raffa di fare le posizioni vedete delle mosse del cartone animato guardate qua quanta quanti snodi qua kid logic ha lavorato veramente benissimo l'unica cosa che non mi piace è questo silicone molle per i piedi e per i pugni e poi le plastiche rigide però non penso potevano lavorare diversamente guardate che bella anche la parte dietro guardate che bella tu che dici raffa la parte benissimo fatta benissimo avessandolo ma vuoi provare perché ragazzi ha pure lo stesso lo spazio tra vediamo se si riesce tra e non vorrei romperte loro ah no nel fatto giusto giusto guardate ragazzi no vabbè dai fa niente facciamo la diretta scusate guardate volta qua adesso ci sarà l'ennesima rottura e queste sono cose un po particolari però dai giustamente la portata raffa accontentiamo lo mettiamo gli sti sandali e poi io non li leverei più fino a fine recensione infatti ne vedi questo a posto è andata anche questo eccolo qua vediamo il nostro avrà ora il rosario dai ragazzi vediamolo qua di dovrei levare i capelli però per mettere il rosario bisogna levargli i capelli infilarli il rosario che penso sia da questo lato qua adesso lo sistemiamo e poi andare a rimetterli i capelli dai vediamolo girare eccolo qua raffa chi stiamo facendo girare qua sulla passarella espositiva chi è con questa persona gauchi akuma akuma che il papà di riu quindi diciamo ai nostri amici che dopo grazie a raffa vedremo altri personaggi di street fighter questo va un po aprire le danze diciamo così vedremo qualche personaggio di questa linea o no perché di questa linea non so se ce ne sono anche altri peccato se non sono andate avanti perché qua la qualità è veramente altissima secondo noi però andremo a vedere riu e ciullino di della play arts della play arts e anche la dice il buon raffa che non si scherza per nessun paio di ciuffoli lo sbaglio spettacolo spettacolo ragazzi dice raffa facciamo gli vogliamo far vedere un final uppercut ma però mi sa che bisogna montare anche la vasetta per metterlo in volo tentiamo di fargli il suo colpo il final uppercut ragazzi quello che quando mette così e va verso l'alto dai tentiamoci ragazzi guardate qualche cosa siamo riusciti a fare spettacolare bellissimo bellissimo stato difficilissimo mettere sta posa ma guarda che abbiamo messo il final uppercut o sbaglio come si chiama questo qua l'appercut spettacolare guardate che giro abbiamo dovuto far fare alla basetta ma noi siamo proprio io e raffaele ragazzi appassionati di questo mondo e ci esalta un sacco siamo riusciti a farli fare guardate questa posizione in vetrina possiamo prendere un'altra doll in merito e farli che viene colpita dal final uppercut eccezionale questa doll kids logic ha fatto veramente un gioiellino questa come a parer mio è una delle figure più belle a tema street fighter ragazzi è veramente questo a kuma è stupendo 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 mi piace veramente un sacco tu che dice raffa è fatto veramente benissimo una figure più che dol perché dol lo sai ma questa questa è una don è una don un sesto perché ragazzi alla fine si vedete alle parti snodabile ai vestiti alle parti intercambiabili a una via di mezzo tra un action figure è una d'ora è spettacolare veramente spettacolare dai andiamo che dice a concludere abbiamo visto più che bene o vuoi dire una cosa o voglio soltanto di che fantastica fantastica a vederla dal vivo dal vivo ha avuto una botta di chappette il raffa qua trovarla sta cifra qua veramente indescrivibile davvero conferma un dettaglio a un dettaglio impressionante veramente stupenda e che dire kids kids guardate qua kids logic licenziata capcom eccolo qua per questa kuma ragazzi ha fatto un capolavoro questo nostro akuma gocchi che gocchi ricordo il nome originale bravo raffa è bellissimo non si può dire niente una figure ma più che figure direi una doll ai il suo kimono diciamo camice da combattimento con la sua cintura immateriale vero vedete questa sembra più che corda e corda e invece questo è proprio tessuto quindi poi rosario vedete proprio il legno quindi è a tutti gli effetti una vera propria dolla l'unica notte dolente che non abbia detto che il sandalo sembrerebbe più che in paglia in plastica vero però non vorrei dire una cavolata l'unica cosa che non ci è piaciuta di tutta la dolla e sandalo fatto un po plastic plasticoso che dire fare diversamente lui è strapromosso iniziamo con akuma un po di recensioni riguardanti anche il mondo di street fighter a grande richiesta di amici di raffa che gli hanno chiesto ma fate qualche personaggio dei street fighter chi ne ha chiesto facciamo noi ragazzi comunque no ci è venuta questa cosa di fare anche i personaggi di street fighter sapete che siamo pirla allora l'ho detta apposta per riderci su e scherzarci e comunque lui è strapromosso dai concludiamo se lo dite sono troppo lungo le recensioni allora concludiamo un saluto dal carletto se vi è piaciuta la recensione pollice alzato un bel like al video attivate la campanellina così vi arrivano tutte le notifiche ma soprattutto a voi non costa nulla e lo ribadisco sempre a noi per noi è fondamentale mi raccomando dateci quella carica e iscrivetevi al canale un saluto dal carletto un saluto dalla cuma con gli occhi illuminati che così però lo vedete poco alla prossima recensione